Gentili telespettatori, buona giornata. E così, quello che dice un carabiniere a una signora di 95 anni, un attivista 95enne, in corteo, in piazza, quello che dice il carabiniere contro Mattarella, viene poi questo carabiniere allontanato. Che cosa ha detto? Ha risposto a questa 95enne, perché questa 95enne dice, lo ha detto anche Mattarella, credo che si riferisse al fatto di due popoli, due stati, qualcosa di condivisibilissimo, no? E la signora dice al carabiniere, Mattarella ha detto questo, e il carabiniere risponde, Mattarella non è il mio presidente, non lo riconosco. E per un poliziotto, dire non riconosco Mattarella, il presidente della Repubblica, è una cosa grave, detta da un ufficiale di polizia, non lo riconosco come presidente della Repubblica, ricordatevi che Mattarella, oltre a essere presidente della Repubblica, svolge funzioni anche di capo delle forze armate. Ho capito che la polizia non fa parte delle forze armate, fa parte del Ministero dell'Interno, però mi capirete bene che un carabiniere poi, ma poi lo dici davanti ai microfoni, davanti alle telecamere, ma come stai messo? Ma aiutatelo, ma com'è sta storia? Che quello in Mediaset si fa beccare, con i microfoni qua si fa beccare che ci prova con le colleghe da striscia la notizia, quando lo sanno tutti che striscia la notizia ascolta tutto, tutto quello che succede in Mediaset, tu c'hai un microfono qua e ci vai a provare con le colleghe. E poi questo qua, il carabiniere, con lì microfoni, telecamere, cellulari, Mattarella non è il mio presidente, non lo riconosco. Ma come state messe? Ma aiutate queste persone qua, perché davvero viviamo in un mondo dove l'ABC di come si vive non è per tutti, non è per tutti. Ecco, sembra una cosa elementare, sei un carabiniere, ci sono lì le telecamere, anche se lo pensi, non è che ci vuole molto, c'è uno che ti sta riprendendo col cellulare, Mattarella non è il mio presidente, aripigliati, ripigliati. E così è stato trasferito, è aperta un'indagine ovviamente. Vabbè, Franca Caffa, promotrice del comitato di quartiere Molise Calvairate Ponti, scambio di battute tra il carabiniere, che poi, maresciallo, maresciallo, 54 anni, non il poliziotto neoassunto di 22 anni che dice, vabbè dai, è un ragazzo, chissà, maresciallo di 54 anni, maresciallo, ma come fai a rovinarti la carriera per andare a dire una roba del genere? Ma dai, ma su, un po' di, eh, cribio, direbbe Berlusconi, dice, mi sono ritrovato a dire una frase stupida, ma a 54 anni, maresciallo dei carabinieri, non puoi dire una frase stupida, non puoi dirla, chiedo scusa, dice, pensavo solo a metterla in sicurezza. A metterla in sicurezza chi? Lui dice che voleva mettere in sicurezza la persona con cui stava parlando, facendole capire, beh, insomma, cosa c'entra mettere in sicurezza magari una persona di 95 anni e andare a dire a questa persona, Mattarella non è il mio presidente, non lo riconosco, ma... Franca Caffa è realmente una signora di 95 anni che si è trovata col suo scialle in mezzo ai manifestanti, una manifestazione che potrebbe esserci spintoni, cariche, insomma, una persona di 95 anni se cade, si spacca, le ossa a quell'età sono fragili, sapete quante persone a quell'età magari cadono e finiscono in ospedale perché si spaccano completamente le ossa, quindi capite che una persona di 95 anni in mezzo a una manifestazione di esagitati, con la polizia, con i caschi antisommossa, insomma, non è propriamente... capisco anche il carabiniere che voleva proteggere la nonnina dicendo attenzione, ma... ti metti a fare un dibattito a tu per tu con la signora di 95 anni a dirgli, Mattarella non è il mio presidente, a ripigliati, 54 anni ripigliati, eh che cavolo, ma... a me spiace che le persone si mettano nei guai da soli e poi non accetto che un maresciallo di 54 anni possa dire una roba del genere, ma non c'entra niente Mattarella, poteva chiamarsi Giovanni Senzaterra, qualunque era il presidente della repubblica, un maresciallo dei carabinieri non può dire una roba del genere, ma non lo puoi dire, dai... vabbè... e cosa vi devo dire? La 94enne, ex consigliere comunale, con rifondazione e poi con Milano in comune, ha posto la domanda dicendo, guardi, diceva il carabiniere, la signora, guardi che anche Mattarella ha detto queste cose, ecco... ed è rimasta spiazzata dalla risposta la signora, come si vede in un video pubblicato da alcuni media, dice... con tutto il rispetto, signora, non è il mio presidente. Il maresciallo, davanti alle telecamere, lo dice, davanti alle telecamere, davanti alle telecamere. E la signora Caffa dice, ma scusi, lei di che paese è? Il carabiniere replica, non l'ho votato, non l'ho scelto io, non lo riconosco, perché la signora 94enne dice, scusi, ma lei di che paese è? Cioè, come dire, carabiniere... scusi, ma di quale... di carabiniere di quale paese? Perché se non riconosci Mattarella, sei il maresciallo dei carabinieri di quale paese? Sì, ma è roba da matti, roba da matti, roba da matti. Maresciallo Capo, c'è anche l'aggiunta Capo, ha ritrattato le sue affermazioni, dice, chiedo scusa, Mattarella è un mio simbolo, un tuo simbolo, un mio simbolo, ho detto una frase stupida, pensavo a mettere in sicurezza quella signora anziana, sì, dicendo che Mattarella non è il tuo carabinieri, non lo riconosci, metteva in sicurezza la signora, quindi la toppa è peggio del buco, peggio del buco, peggio del buco. Mattarella è un mio simbolo, e qui partono le risate tipo drive-in, no? Mattarella è il mio simbolo, la mia luce, il mio faro, Mattarella è diventato magicamente dopo il trasferimento, il mio faro, la mia luce guida è diventato. Infatti la signora dice, sono rimasta sconcertata da questa risposta. Vabbè, carabiniere trasferito e indagato, ognuno è causa delle proprie azioni, fascicolo in procura a Milano. E le scuse del maresciallo. Arrivederci a tutti e grazie.